Perché sì? Sì, perché penso che questo Paese abbia bisogno soprattutto di stabilità e di un governo che governi e faccia delle scelte. La stabilità è la condizione essenziale per poter fare tutto il resto. Io sosterrò il sì, lavorerò per il sì, a prescindere dall'appartenenza politica, perché penso che questa sarà una grande risorsa per gettare delle fondamenta di crescita per il nostro Paese. Ha parlato? Giuliana Sabattini, Assessora al Comune di Molinella.